Il governo è deciso di capire la pagina pubblica, ma molti persone già protestano contro le misure difficoltà che hanno già stato fatto. Inoltre, un n.p. cristiano democratico, Mario Segni, è creando un nuovo movimento politico per combattere la corruzione e per promuovere le riforme. Quali ti piace la più di la tua attività come n.p.? È l'unica ragione che mi tiene ancora legato al mondo politico. Diversamente, se non avessi trovato la possibilità di muovermi in un ambiente che punta alle riforme, probabilmente non mi sarei più ripresentato per questa legislatura. Gianni Rivera ha deciso di join Mario Segni in questa battaglia. Può trovare che il modo di sviluppo, elegante, diplomatico è così utile dentro del Parlamento italiano come è stato sul campo.